Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La giovane content creator Mirna, conosciuta su TikTok come Twilight Venom13, è deceduta, lasciando dietro di sé oltre 120.000 follower. Mirna era una delle prime influencer a sensibilizzare il pubblico sui disturbi mentali. La madre Cristina Camino ha annunciato la triste notizia attraverso un post su Instagram. Le cause esatte della morte non sono state chiarite, ma la madre ha rivelato che Mirna era tormentata dal suo demone interiore. Cristina Camino ha espresso il suo dolore con parole commoventi, dichiarando «Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio». Ha inoltre riflettuto sul delicato equilibrio necessario per sostenere chi è in difficoltà, ammettendo di non aver capito la fragilità della figlia. Mirna, famosa per i suoi tutorial di make-up e per la sensibilizzazione sui disturbi mentali, aveva condiviso il suo ultimo video su TikTok a fine dicembre. I suoi fan avevano notato la sua assenza dai social e si chiedevano il motivo. Nei commenti è emerso che Mirna si era rivolta a una struttura specializzata per il trattamento del disturbo borderline di personalità, ma purtroppo il suo demone interiore sembrava troppo potente da sconfiggere. Attiva soprattutto su Instagram, dove condivideva disegni e creazioni artistiche, Mirna aveva scritto un post il 13 giugno che rifletteva il suo profondo dolore. La sua lotta con i disturbi mentali ha lasciato un segno profondo nella comunità online.